Come si fa? A me è partito già Vai, vai 7 punti così Vai 5 punti così 5 punti così 8 punti così Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forza, forza! 3, 2, 3, 2, non parli 5, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, via! Grazie a tutti. 4, ultimo. dai 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 nico dai nico puoi andare o no muoviti dai 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 do this dai dai forza dai dai uno scavalco dai nico, dai si, si bravo ora 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 sta fuori sta fuori state che sta 3 4 ultimo via via ok via dai dai via via dai forza un minuto e mezzo un minuto e mezzo dai ora fuori 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 che fuori 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 ... 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10 vai 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 5 e abbiamo fatto 6 e 1 6 e 1 Nicola Costanza sono i battle Battle of Stasio nel 17, categoria scarso e vaffanculo